Olè, eccoci qua per la prima volta in diretta su questo canale Ci tenevo un po' a fare questa diretta qui prima di tutto per provare le dirette su YouTube Visto che non ho idea di come funzionino, non so come funzionano, non so come vanno, non so nulla Volevo fare un po' questa prova, poi magari il video lo terrò, magari non lo terrò, lo eliminerò, lo caricherò Magari lo caricherò su un secondo canale che stavo pensando di aprire Comunque oggi siamo qui perché ieri ho potuto assistere a un evento, una conferenza di David Kammen Autore di un libro importantissimo, David Kammen è prima di tutto un giornalista Giornalista e scrittore, si è poi specializzato in un ambito particolare che abbiamo trattato più e più volte sul canale ormai E che sicuramente approfondiremo in futuro David Kammen ha scritto il libro Spillover Libro sui virus forse più famoso, ma è stato scritto Libro che ovviamente con il Covid ha spopolato, chiaramente Abbiamo avuto modo di assistere a una conferenza bellissima, molto molto bella Grazie a Bergamo Scienza che l'ha organizzata, si tratta veramente di un'associazione straordinaria Che permette agli insegnanti di collaborare insieme ai ragazzi per insegnare ad altri ragazzi Bergamo Scienza si occupa di proporre tantissimi lavoratori in giro per le scuole di tutta la provincia di Bergamo Ho avuto modo di testarli, ho avuto modo di partecipare super super top Ma torniamo a parlare di David Kammen e di questo suo libro fantastico, Spillover È un libro che parla di virus, è un libro che parla di virologia, è un libro che parla anche di batteri E parla appunto di questo Spillover che in italiano non sarebbe nient'altro che il salto di specie Che è un virus compie passando dagli animali agli esseri umani Si tratta di un qualcosa che avviene costantemente in natura Ed è avvenuto nel corso di tutta la storia della Terra, per cui non è una novità, si sa che avviene così La conferenza si è basata sia su questo libro che soprattutto sul libro che è appena uscito da parte dello stesso autore Da parte di David Kammen, ovvero sia senza respiro, un video che ovviamente Un video, scusate, un libro che ovviamente è stato interamente dedicato alla pandemia Dovuta al coronavirus SARS-CoV-2, quindi al Covid-19 Ringrazio David anche tra l'altro per avermi fatto due dediche molto speciali Ho fatto sapere a David che sono laureato in biologia con un inglese top Vi lascio immaginare il livello di inglese Doppia dedica da parte sua, veramente super gentile, super disponibile Addirittura è stato lui a chiedermi se volessi fare la foto insieme a lui Quindi top, veramente una persona straordinaria Classico americano, super simpatico, super disponibile, super affabile Veramente top, top, top La conferenza è stata molto molto bella Presentazione eccellente, eccellente Tra l'altro alle pagine, se non erro, 221 e 222 È trattata anche la squadra di calcio della città di Bergamo, ovvero sia l'Atalanta Perché probabilmente proprio durante la partita Atalanta contro Valencia Tenutasi a San Siro, allo stadio di Milano Che si è poi diffuso in tutta la provincia di Bergamo e probabilmente anche nel resto della Lombardia Nonostante nell'Odigiano probabilmente il focolaio fosse partito prima Ecco che a pagina 222 viene appunto trattato questo tema di Atalanta Valencia Della partita di Champions League del 19 febbraio Tutto presente all'interno del libro E è stato molto molto interessante Molto molto interessante La parte che riguardava un po' la presentazione del libro è durata all'incirca una quarantina, 45 minuti Dopodiché ci sono state molte molte domande interessanti Anche un po' una domanda provocatoria di, chiamiamola così, una complottista Comunque una persona che non era d'accordo con le parole e con il libro di David Kamen Ha risposto veramente da signore Un comportamento esemplare, esemplare Infatti alla fine di tutta l'intervista sono andato da David Da David ho detto For me you are a living legend In inglese sempre al top ragazzi Su questo canale promuoviamo la cultura e anche la cultura linguistica E sono andato da David dicendo queste frasi Scambiando un po' con lui due parole Veramente super gentile, super super gentile Tra l'altro super gentile anche Luca Perry Presente anche lui alla conferenza Anche con lui ho scatato delle foto Un divulgatore ottimo, eccezionale Lo seguo da tempo Come seguo da tempo Barba Scura Entropi4Live Tantissimi altri divulgatori scientifici Che sono presenti proprio qui sulla piattaforma Ebbene Questa è stata un'esperienza super positiva Mi piace parlarne un po' così In diretta In modo da non fare tagli Da dirvi quali sono le mie impressioni Ancora a caldo perché l'incontro si è tenuto ieri sera alle 8 a Bergamo Per cui sono le impressioni a caldo Oggi è il 22 di novembre 2022 Per chi lo guarderà in futuro Sappiate che sto registrando in questa data Giornata uggiosa oggi Uggiosa anche ieri Ha piovuto durante la conferenza Nell'uscirci siamo abbastanza lavati Io e Daniela che è una mia ex professoressa Delle superiori che mi ha accompagnato in questa conferenza La quale devo tra l'altro dire un grazie enorme Perché senza di lei Non avrei mai 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 partecipato Non avrei mai avuto modo di partecipare a questa conferenza Per cui veramente un grazie enorme a Daniela Poi nel caso in cui dovesse ricaricare questa live Lascerò tutti i suoi contatti anche in descrizione Anche lei ha un canale su YouTube Ha un blog in cui parla di matematica È stata veramente un'ottima giornata Un'ottima compagnia anche di Daniela appunto E devo dire Un privilegio per me Che parlo di biologia Che tratto di questi temi Poter assistere alla conferenza di un gigante Della divulgazione Perché Spillover è un Stavo ridicendo video Tra l'altro Tra l'altro Un libro strepitoso Un libro Anche un po' pesantino Sincerità Prima di tutto Un libro pesantino Lunghino Devo dire Sono se non sbaglio 550 pagine Vediamo per correttezza Qui siamo alla parte sulla bibliografia 537 pagine In questa versione del libro Piene Pagine Devo dire Molto piene Sicuramente con una laurea In un In un settore scientifico Si legge questo libro Con Abbastanza facilità Con relativa facilità Nel caso in cui Non abbiamo dimestichezza Non dovessimo avere dimestichezza Con l'argomento Non è un libro proprio Super semplice Lo dico giustamente Va detto Va detto E Sono curioso tra l'altro Di sapere anche In Senza respiro Quali temi verranno approfonditi In questo suo Altro libro Strepitoso Che ha presentato appunto ieri Si tratta un po' Di un libro In cui Ci sono anche Delle interviste Sono molto curioso Di leggere Si tratta anche Di temi Complessi Si parla Di temi molto complessi Di temi molto Controversi Come Le chat Che si sono scambiati In Pfizer Poi sono stati eliminati Oppure si parla Della controversia Riguardo al fatto Che il virus Sia uscito Così scappato Da Da un laboratorio Sarà vero Non sarà vero Spoiler Non è vero E In questo libro Si spiega anche Perché Tra l'altro Ieri Durante la conferenza Sono arrivate Numerose domande Proprio su Questo tema Quindi David ha risposto Veramente in modo Impeccabile Sempre Preciso Lasciando anche Spazio a quello Che è il ruolo Del caos Il ruolo Della casualità Il ruolo Della fortuna Della sfortuna Che indubbiamente Ha un ruolo Nella biologia Nell'evoluzione E anche Nell'evoluzione Molto spesso Di queste patologie virali Perché La scienza A volte Può agire A volte Si ritrova A dover intervenire Di fronte a una cosa Che succede E la sfortuna Gioca spesso Un ruolo Chiave In quello Che succede Pensato un po' A tutto quello Che è successo Nel corso Degli ultimi anni Se non fossimo Mai venuti in contatto Con quel tipo Di coronavirus La malattia Non si sarebbe mai Propagata così Con questa velocità Invece Purtroppo Per la colpa Della sfortuna Oltre che Ovviamente Di tanti fattori Che si potevano Modificare Si poteva Sicuramente Prevenire Tutto ciò Ma è indubbio Che anche La fortuna O meglio La sfortuna Abbia giocato Un ruolo chiave In tutto quello Che è successo E nel corso Della storia È successo Così per Praticamente Tutte le Le pandemie Le epidemie Tutte le malattie Che si sono sviluppate In seguito a Batteri Virus Eccetera Per cui La nostra diretta Può finire Tranquillamente qui Non sono stati Presenti Numerosi spettatori Ma Quando ricariccheremo Questa diretta Su youtube Sicuramente Verrà vista Da più persone Intanto Non mi resta Che ringraziare Bergamo Scienza Non mi resta Che ringraziare Daniela Luca Perri E anche Ovviamente David Kamen Autore di questi Due straordinari Libri Che mi ha Autografato E devo dire Veramente Un grazie Enorme A David Una persona Eccezionale Che mi fa Anche pensare Al fatto che Si può essere Divulgatori Simpatici Si può essere Persone Simpatiche Si può essere Giornalisti Simpatici E anche Affabili David è veramente Una persona Straordinaria Che poteva Tranquillamente Prendermi in giro Per il mio inglese Ma Tranquillissimamente Invece no Abbiamo riso E scherzato Sul fatto che Studiassi appunto Biologia Per cui Veramente Un incontro Super Un incontro Che mi dà Uno stimolo Ulteriore Per portare Altri video Su tema Virologia Epidemia Virus Batteri Ne arriveranno Tanti In futuro E Veramente Sono grato A Bergamo Scienza A Daniele E a tutti Per avermi dato Questa possibilità Di Di partecipare A un evento Così importante Per me E anche Per il futuro Di questo mio E nostro Canale Per cui Io vi ringrazio Vi invito A iscrivervi Al canale Vi invito A seguirmi E a schiacciare A cliccare Sulla campanellina Per rimanere Sempre Aggiornati Su tutti I contenuti Futuri Io Vi abbraccio Vi ringrazio Ci rivedremo In una prossima diretta O in un prossimo Video E direi che La diretta Può tranquillamente Concludersi Qui Ciao ragazze Ciao ragazzi E grazie mille